Musica è un bel ponte per fare la sincronicità fra le persone perché quello esiste già, siamo nel stesso oceano o siamo quel oceano di conscienza ma siamo identificati con questi piccoli isoletti dove ci viviamo io sono separato, io sono di questo paese, di questo lavoro, di questa famiglia tutto quello sono bolli sulla superficie e musica, tu puoi andare nella stessa onda più in più profonda finché tu riesci a toccare quella profondità dove ci siamo uniti non siamo diversi né separati grazie a tutti